Ben trovati. Volevo questa volta fare un po' il punto, come ogni tanto, nell'attività del canale, che si sta avvicinando, anche abbastanza passi e abbastanza rapidi, verso il traguardo dei 30.000 iscritti. Quindi, ricordo quando ho fatto il primo video, celebrando i 1.500 iscritti del canale, beh, il progresso, secondo me, sempre per un canale di questo tipo, di cui rinnovo i ringraziamenti a chi mi ascolta. Vedo che ci sono dei fedelissimi e poi ci sono quelli che ogni tanto arrivano per vari motivi, insomma, alcuni si fermano, alcuni vanno, non molti criticano per la verità. Insomma, adesso si è arrivati a una situazione di sufficiente stabilizzazione per quello che riguarda l'attività di critica, insomma. Ma, d'altronde, è giusto anche accettare le critiche quando non sono offese, insomma, no? Quando non sono... Guardando i report, insomma, del canale, ho visto che i miei piace, i like, insomma, legati ai video, sono il 95,7%. Mi sembra una percentuale più che buona, insomma, no? Per un qualcosa di questo tipo, che, ripeto, è fatta in maniera dilettantesca. A proposito di dilettantismo, io ho questo problema pratico, cerco di leggere molta roba e di postarne, poi le letture che faccio spesso sono anche lunghe. Dopo che ho corretto quello che faccio, e la correzione, ho detto, no? Dura abbastanza tempo, precisate di fare la pulizia, di fare un sacco di operazioni, oltre che di tagliare tutte le cose che vanno tagliate, montate e così via. In genere faccio fatica a riascoltare un'ulteriore volta quello che ho letto dopo che è stato riascoltato per tagliarlo. Allora vi chiederai, magari, la cortesia a chi ascolta, di farmi eventualmente delle critiche, non tanto delle critiche, ma delle correzioni utili, insomma. Può essere che mi sfuggano degli errori, specie delle ripetizioni, perché a volte si fa questo lavoro anche quando si è assonnati, insomma è un lavoro molto noioso. Allora è facile che sfuggano in un romanzo, per esempio, o delle parole imprecise, oppure delle ripetizioni. Magari una parola imprecisa risulta di meno, nel senso la si coglie di meno, a meno che non si segua con il testo. Ma, ovviamente, se la si trova, segnalatemela, insomma. Soprattutto le ripetizioni a volte sono un po' fastidiose e vedo che me ne sfuggono, insomma, ogni tanto. Allora, se individuate qualche cosa che non va, che non funziona, se me la segnalate, io vedo di correggerla. O magari, se la cosa è abbastanza grave, di ripostare quel video, insomma, che non è riuscito bene. Abbastanza recentemente ho acquisito un microfono nuovo e questo dovrebbe garantirmi una migliore qualità audio. Lo spero, insomma, perché sembra stato un po' il mio problema, insomma. Non sarà mai una qualità ottimale, insomma, da studio di registrazione. Però, insomma, che sia una qualità accettabile, ci tengo ad arrivare a questa situazione. Adesso la qualità dovrebbe essere abbastanza accettabile. Le letture proseguono, insomma, proseguono con un certo ritmo, come vedete. Pensiamo che si sono concentrate molto, negli ultimi tempi, come avete visto, su Guy de Montpassant. Anche perché vedo che funziona, insomma, funziona nel senso che vi piace. C'è una grande articolazione di argomenti, di temi nei suoi racconti. I suoi racconti poi raccontano molto la vita di una società, di un certo tipo di borghesia, ma ne abbiamo già parlato. Ognuno è un mondo a sé, ognuno ci mostra, anche ci fa scoprire dei personaggi anche particolari che poi ci ricordiamo. E poi sono anche brevi, quindi, insomma, diciamo che è abbastanza facile leggere un racconto di Montpassant e arrivare a postarlo nel giro di poco tempo, insomma. Quindi c'è questo vantaggio anche da parte mia, che un racconto di Montpassant riesce a essere visto da più persone, spesso apprezzato da più persone, e nello stesso tempo non richiede un grande lavoro. Per quello che riguarda invece romanzi, richiedono un lavoro molto più lungo, molto più impegnativo, insomma. E' chiaro che In Miserabili ha richiesto un lavoro di mesi, intorno a cinque mesi, insomma, di lavoro. E quindi un continuo ritornare su questa cosa. Per me è anche molto piacevole, molto coinvolgente, è un libro che mi ha preso molto, che avevo già letto, come dico. Però, diciamo, c'è un grosso lavoro. E poi c'è anche il fatto che non sempre arriva, insomma, arriva a qualcuno, ma penso che non tutti abbiano la pazienza di ascoltare cinquanta e più ore di un romanzo, no? È molto meglio cavarsela con qualche decina di minuti di racconto. Ho ritrovato una vecchia passione ultimamente, insomma, che è Dostoevsky, di cui ho letto uno dei suoi romanzi, Il Giocatore, forse non è uno dei suoi romanzi migliori, però, insomma, come sempre Dostoevsky, insomma, è Dostoevsky. E in questo romanzo emerge poi una grande figura, che è questa della nonna, insomma, di questa nonna che è il centro di tutta la situazione, insomma, che sconvolge tutte le aspettative, insomma, che riguardavano la sua morte, che scopre il gioco, insomma, no? E quindi riesce a perdere tutte le sostanze che il nipote si aspettava di avere in eredità per risolvere le sue situazioni. Ma poi, insomma, questo romanzo lo trovo anche un po' discontinuo, nel senso che a un certo punto, dopo che la vecchia se ne parte, ritorna più la crisi del giocatore, insomma, no? Ma ritorna più all'io narrante, insomma, no? Che racconta un po' come è diventato irrimediabilmente perso, insomma, rispetto al gioco. Mentre all'inizio non sembrava questo, un libro che va ascoltato e anche meditato da un certo punto di vista. Poi vi ho proposto alcuni racconti di Melville che trovo un grande, insomma, un grande scrittore. Poi ci sono state anche tante altre cose, ma soprattutto le cose fatte le trovate. Ho alcune cose invece che sono pendenti e che un po' alla volta dovrei finire, perché ho cominciato. Una l'ho appena finita ed è Virginia Woolf, una stanza tutta per me, l'ho già letta completamente, e la posterò un video al giorno, insomma, sono cinque video, cinque parti. Da questo punto di vista vorrei anche chiedervi se preferite che vi si posti un romanzo anche un po' corposo, insomma, dalle quattro o cinque ore in su, se preferite che venga postato a puntate, insomma, magari, non so, un'ora alla volta, oppure se lo preferite postato in un unico file. In un unico file per me è un attimo più difficile, ma poi magari alla fine lo faccio comunque, insomma, tendo dopo un po' a riunire tutto in un unico file, ma spesso quando faccio questo mi succede che in programma magari mi mangia le ultime parole di qualche video, insomma. Adesso cerco di essere più prudente, insomma, di lasciare uno spazio di silenzio alla fine del video, però succede che il programma a volte si mangi le ultime parole, questo non è tanto bello, insomma. Però vorrei chiedere, insomma, se l'uso che viene fatto poi del video è più facile, se il romanzo viene postato a puntate, oppure se è più facile se il romanzo viene postato in un unico file. Questo vi chiederei di dirmelo, insomma, se potete, nei commenti, perché per me poi non c'è molta differenza, posso fare in un modo o nell'altro. Cos'ho di sospeso? Beh, diciamo che ho una cosa che ho cominciato, ma che non so se finirò, però un po' alla volta mi piace andare avanti, perché è poi una delle opere capitali del Novecento e che è L'uomo senza qualità di Musil. L'ho ripreso in questi giorni, insomma, ne ho letto, ne ho fatti un paio di video, ma desidero un po' alla volta andare avanti. D'altronde questo mi ripromettevo, insomma, no, di leggere qualcosa di Musil in maniera progressiva man mano che passa il tempo, insomma, col tempo, un po' alla volta. D'altronde non è un romanzo che abbia una, come dire, una linea narrativa, una trama ben particolare, no, e quindi è un romanzo che si presta, insomma, a essere letto anche in singole parti. Un po' alla volta. Invece alcune cose che devo ancora concludere sarebbero Buvare e Pecouché di Flaubert, che avevo iniziato tanto tempo fa e sono più o meno a metà, che è un grosso lavoro, insomma, forse l'opera, diciamo, non dico più importante, ma più interessante di Flaubert. Poi avevo cominciato a leggere, e sono a metà anche con questo, dell'agente segreto di Conrad, e anche questo vorrei poterlo portare a termine. E così anche sono a metà più o meno della colonna infame di Manzoni, e anche questa è un qualcosa che mi ripropongo di portarla a termine. Durante questo viaggio che si fa nella letteratura, no, di giorno in giorno, quando si decide, insomma, anche cosa leggere, tra le altre cose che sto leggendo sono anche delle fiabe, insomma, un po' anche di Andersen, ultimamente, oppure le fiabe italiane, fiabe popolari, insomma, di tutte queste cose qua, che spesso ci si lascia trasportare anche dalle suggestioni del momento, del giorno, e a volte anche da certe suggestioni che si sentono, da certi suggerimenti che ti vengono ascoltando qua e là. Uno di questi, per esempio, è un video che ho ascoltato ieri o l'altro ieri di Paolo Villaggio, nel senso che ho visto un'intervista di Paolo Villaggio del 75, quando era abbastanza giovane, in cui commentava, insomma, commentava soprattutto la comicità, il rapporto tra il tipo di comico e il momento in cui la comicità, in cui il comico agisce, insomma, no, come si adegua la comicità al tempo, al momento presente, al momento in cui viene prodotta. E, ovviamente, parlava del suo Fantozzi, ma alla fine, insomma, avevano chiesto anche quali erano le sue scelte letterarie, insomma, no, e lì è venuto fuori, ma in tutto il video, insomma, c'è un personaggio, Paolo Villaggio, che si sente, insomma, grande intellettuale, un uomo di grande spessore culturale. Alla fine lui cita, tra gli autori, insomma, autori che, vabbè, insomma, tra i suoi autori cita Borges, cita Marquez, cita Musil, l'uomo senza qualità, ma cita anche un autore che per me era sconosciuto, che si chiama Felisperto Hernández, peruviano, mi pare, che ha scritto una sola raccolta di sette racconti in tutta la sua vita e che per lui sono una situazione, un momento cardine, insomma, no, della letteratura sudamericana. Mi è venuta voglia di andare a cercare questo lavoro, questi racconti, e vorrei anche un paio nauletti e vediamo se riesco a leggere anche gli altri e poi proporverli. Questo per dire come magari di volta in volta, a seconda di quello che succede intorno a te, insomma, di come ti muovi, di quello degli incontri che fai, e poi acquisisci anche materiale, insomma, o la curiosità per un certo tipo di materiale, e quindi, insomma, si va un po' così, anche disperdendosi, non si segue una linea proprio definita. Sempre però rimanendo nel fatto che il canale cerca di avere un'impostazione che è rivolta verso i classici, insomma, verso la letteratura con la L maiuscola, insomma, no, più che non con che la letteratura d'occasione, insomma, il fantasy o questa cosa qua. Un'altra cosa che prossimamente vorrei fare, e qui volevo un attimo parlarne con voi, insomma, no, è un'idea che già avevo sviluppato, non so, forse un anno fa, insomma, quella di vedere cosa fare anche con coloro che chiedono ogni tanto, ogni tanto ricevono una richiesta da parte di giovani scrittori o anche di meno giovani scrittori, adesso che magari si vede che il canale ha abbastanza iscritti, insomma, quindi si pensa che abbia una certa visibilità, siccome c'è questa difficoltà perché scrive poi di far vedere, di far leggere quello che è scritto, allora magari ti chiedono di leggere qualcosa, magari di postarlo, no, pensando che magari, visto che ci sono 30.000 iscritti, 30.000 persone guardino quello che tu leggi e che loro hanno scritto, ma non succede così, insomma, no, quando si legge qualcosa e quando mi capita di leggere, in genere lo faccio, insomma, lo faccio anche gratuitamente, certo, se non mi si chiede di leggere un libro intero, insomma, no, ma se mi si chiede di leggere qualche pagina, un capitolo, una poesia, lo faccio, lo faccio gratuitamente come favore, è una cosa che mi fa piacere, favorire, se è possibile, insomma, dare uno strumento a chi scrive di farsi conoscere, però, insomma, magari non si faccia l'illusione che perché ci sono quasi 30.000 iscritti nel canale così tante persone poi ascoltino o vadano su quel video, insomma, no, calcoli che ci saranno 100, 200, 300 visualizzazioni, insomma, il mio canale per singolo video non fa tantissimo. A proposito, insomma, video che vengono dal mio canale li trovate anche se andate su audiolibri.org, audiolibri.org è una specie di piattaforma, un sito che offre audiolibri gratuiti. Allora, se voi cercate anche su google audiolibri.org e lo trovate tra le prime voci, insomma, di google quando fate la ricerca audiolibri gratis, trovate audiolibri.org e lì trovate anche molti dei miei video, insomma, ne trovate parecchi, insomma, e li potete vedere ovviamente gratuitamente. Il problema nasceva su cosa fare se è possibile dare una mano, insomma, ai giovani scrittori che scrivono qualcosa, magari hanno scritto un libro, ne hanno scritti due e che cercano una visibilità, insomma, no? È chiaro che se questi giovani scrittori hanno già stabilito un contratto con un editore, insomma, con un editore ufficiale, la cosa poi il loro libro non lo gestiscono più loro, insomma, lo gestisce l'editore, quindi non è detto che l'editore abbia piacere o no che si legga un brano di questo libro o così via, o ancora peggio di poterne fare liberamente una lettura, un audiolibro, insomma, no? Perché i diritti in quel caso vengono ceduti all'editore. Se invece un giovane scrittore ha scritto qualcosa, non ha contattato case editrizi e così via, insomma, non ha contratti diversamente, allora, il problema è si può essere utili a questi giovani scrittori in modo tale da far sì che abbiano una visibilità un po' maggiore di quella che possono avere se mettono, magari se si autopubblicano il libro o lo mettono su Amazon dove magari rischia di non vederlo nessuno, insomma, se non se ne parla, se qualcuno non lo prende in mano, non lo promuove, che so io. Una cosa che potrebbe essere possibile ma richiede anche una visione, cioè richiede un modo di concepire anche la rete come qualcosa che può favorire la cultura, insomma, no? E che può rendere accessibile la cultura anche nel modo gratuito, no? Quindi mi è capitato a proposito di questo insomma, di leggere per esempio interamente anche alcuni libri di autori insomma non conosciuti, fondamentalmente non conosciuti. Alcuni li ho anche postati nel mio canale ma ovviamente hanno una visibilità relativa. Chi scrive un libro si aspetta anche di avere un ritorno, no? Ci ha messo impegno, ci ha messo lavoro, ci ha messo fatica, no? scrittori di un certo tipo si sono arricchiti scrivendo un libro, a volte si sono anche promesse che vengono fatte dagli editori. C'è un miraggio di avere un certo riconoscimento, hanno dei costi, si investono dei soldi, un autore deve sostenere un determinato tipo di costi. Questo poi implica il fatto di arrivare a pubblicare l'audiolibro nelle grandi piattaforme dove tra l'altro insomma la gran parte degli eventuali ricavi nel momento in cui quel libro vada bene vengono trattenuti dalla piattaforma insomma. Non c'è più un rapporto diretto tra chi scrive e poi chi legge ma c'è tutta una serie di intermediari per cui come dice anche Rampini insomma no succede che o è successo insomma anche non faccio nome con chi ma insomma che ormai chi fa chi crea il prodotto è diventato un servo della greba insomma no la parte del leone la fanno altri che non ci mettono il lavoro allora è possibile superare questo tipo di unpass e nello stesso tempo permettere una gratuità dell'offerta io avevo intravisto questo questo modo che non so se sarà possibile se sarà realizzabile ma lo proverò insomma come come esperimento insomma alcuni libri li posterò con questo criterio nel mio canale sono libri nuovi nel senso che sono libri originali fatti adesso non di autori anche non solo emergenti non solo giovani insomma uno di questi libri che mi è capitato di leggere è scritto da uno scrittore che ha più di 70 anni insomma che è appena stato pubblicato insomma che trovate anche su su Amazon come come libro cartaceo bene noi ne abbiamo fatto un audiolibro insomma e questo audiolibro probabilmente verrà anche pubblicato su audible ma verrà pubblicato anche sul mio canale così anche con altri e a questo punto sul mio canale sarà accessibile gratuitamente cioè nel senso chiunque potrà leggere questo libro e leggerlo gratuitamente senza costi rimarrà l'opzione quello che secondo me dovrebbe un po' essere insomma no perché anche chi produce le cose insomma ha delle spese allora ci sarà l'opzione libera però non è un prezzo insomma ma chi vorrà chi sarà responsabile di di questo fatto insomma di sapere che sta usufruendo di un prodotto che ha avuto determinati costi per essere prodotto senza chiamare intermediari in mezzo insomma potrà fare un'offerta libera quindi libero di farlo o di non farla se la fa potrà fare un'offerta di due euro e questi due euro saranno nel caso dell'audiolibro saranno ripartiti tra chi l'ha scritto e chi l'ha letto chi farà un'offerta di due euro potrà ricevere gratuitamente in omaggio anche l'ebook di questo libro quindi potrà anche poi seguire la lettura dal lettore dall'ebook insomma che avrà a disposizione questo mi sembra che potrebbe essere un modo se funziona potrebbe essere un qualcosa che che potrà garantire una minima copertura di spese a chi ha creato il prodotto saltando eventuali intermediari insomma ecco qual è l'ostacolo l'ostacolo che noi attraverso la rete siamo ormai abituati ad avere dei prodotti completamente gratuiti anzi e quindi sarà difficile che qualcuno lo dico anche un po' per esperienza insomma che qualcuno risponda in maniera responsabile cioè faccia un'offerta di due euro per avere un prodotto che magari se lo va ad acquistare come libro come audio libro gli costa tre volte cinque volte tanto però è un esperimento che forse vale la pena fare perché mi sembra che se se un eventuale ricavato non va in mano a terze persone che non hanno fatto niente insomma e serve invece per recuperare determinate spese insomma e questo potrebbe essere una cosa buona insomma una cosa che permette poi di andare avanti su un'idea di rendere la cultura accessibile e gratuita insomma gratuita vuol dire che chi non può pagare non paga chi vuol pagare paga a un prezzo molto molto più basso di quello che pagherebbe altrimenti perché non ha intermediazioni e perché c'è una modalità diretta di acquisire una certa cosa questo potrebbe anche essere un modo per come dire per aiutare autori emergenti insomma a farsi conoscere a far sì che ci si avvicini ai loro libri alle loro opere io mi è capitato di leggere cose buone insomma le cose che posterò le trovo interessanti anche le trovo di generi molto molto diversi insomma quindi è possibile accontentare anche più gusti ovviamente visto l'esperienza passata non mi aspetto grandi cose insomma ripeto ormai la cultura che è passata attraverso la rete è quella di avere tutto insomma di avere solo diritti anzi anche molto diritti soprattutto anche di criticare liberamente insomma ma insomma lascio a voi considerare se questa possa essere un'idea buona o no da questo punto di vista ho cercato anche di vedere quali sono e cosa si può fare per dare una mano agli scrittori insomma emergenti insomma cosa si può fare nell'ambito del self publishing c'è un sito insomma che si dedica al self publishing che si chiama you can print che l'ho trovato il più accessibile insomma il più interessante e volevo segnalare insomma questo sito anche ai giovani scrittori nel senso che se loro forniscono a questo sito per esempio il loro libro già in formato e-pub c'è la possibilità di pubblicarlo e di metterlo in vendita nel loro store e forse anche in altri store in maniera gratuita insomma quindi possono rivolgersi a questo sito con la possibilità nel momento in cui gli forniscono l'ebook già sistemato già completo con la copertina e in formato e-pub con la possibilità di pubblicarlo nel loro store in maniera gratuita l'altra cosa è che se gli forniscono l'audiolibro già letto in maniera abbastanza professionale anche l'audiolibro del loro libro può essere poi pubblicato anche su Amazon su Audible che è un'emanazione di Amazon insomma in maniera gratuita quindi anche questi sono dei sistemi insomma che possono avere per poter presentare la loro opera insomma queste cose possono essere anche messe insieme insomma integrate è chiaro che se devono far leggere il loro autolibro da UK Imprint da uno dei lettori di UK Imprint il costo è quello che dicevo prima insomma 3,90 euro a cartella editoriale 1800 caratteri insomma e quello nel caso sarebbe un costo però se il loro libro è già letto e lo presentano a UK Imprint non avranno costi mi piacerebbe a proposito di e ho provato insomma a mandare una mail a UK Imprint visto che loro fanno anche dei live insomma con degli iscrittori mi piacerebbe proporgli di fare una live anche con me nel senso di poter cercare di capire da loro quali sono i loro criteri di lavoro cosa succede quando uno si rivolge a loro come deve fare a rivolgersi quali sono gli obblighi contrattuali cosa si trattengono tutti quelli che sono i problemi pratici che eventualmente un autore potrebbe avere nel momento in cui si rivolge a loro e anche i costi insomma per pubblicare il suo libro adesso vedremo se mi rispondono di sì o di no nel caso mi rispondano di sì insomma si possa fare una live con loro cercherò così insomma di interrogarli su quali sono le modalità insomma in modi le aspettative possibili cosa si può avere cosa no e così via insomma di tutte le cose pratiche insomma in canali come il mio è possibile avere del materiale e dispone in maniera gratuita poi voi sapete che ci sono queste grandi piattaforme no Audible e Storytel insomma che fanno anche molta pubblicità insomma in cui molto molto arriva insomma stanno prendendosi il grosso del insomma l'ho già detto insomma non sono dei magazzini che si stanno riempiendo sempre di più dove si trova di tutto insomma no anche lì man mano che arriva di tutto poi c'è il buono e il cattivo insomma bisogna fare delle scelte insomma no sempre meno selezionato poi il prodotto man mano che lì arriva tutto però lì con 10 euro al mese uno può guardarsi di tutto allora la mia impressione a questo punto è quello che ci siano due tipi di utenze diverse insomma ci siano delle utenze che una volta che hanno fatto l'abbonamento insomma gli audiolibri stanno andando molto insomma più in America che in Italia ma insomma stanno andando stanno funzionando sono un mercato anche all'editizio per queste piattaforme allora lì vanno quelli che hanno fatto l'abbonamento insomma quelli che hanno fatto l'abbonamento non cercano più in canali come YouTube o come queste cose qua di avere i libri gratis una volta che pagano un fisso mensile li trovano già gratis tutti su quelle piattaforme quello che trovano perché non trovano tutto trovano molto ma non tutto neanche lì e poi c'è un'utenza che invece non ha fatto l'abbonamento su Audible e magari va a vedere qual è l'offerta che gli può venire di audiolibri gratuiti insomma no e ovviamente voi sapete che gli audiolibri gratuiti sono quelli che non hanno copyright oppure quelli degli autori emergenti che non hanno ancora fatto contratti con gli editori insomma no e purtroppo il copyright copre gli autori gli scrittori che sono morti che sono prima di 70 anni fa quindi per andare sul gratuito bisogna andare su opere che sono state scritte molti anni fa quindi sono opere diciamo storiche classici ma opere scritte molto anni fa insomma tanto per dare un'idea a Calvino Buzzati eccetera eccetera non sono carver non sono fruibili da questo punto di vista io li avevo letti ma li ho dovuti togliere questo insomma è quanto volevo dirvi quindi tra le cose che posterò prossimamente ci saranno anche degli audiolibri completi diciamo nel caso di questi libri che hanno un autore un autore che non ha una storia alle spalle che ha sostenuto delle spese insomma per fare questo libro non con me ma insomma delle spese in generale insomma no rispetto a questi autori insomma sarebbe anche giusto che potessero ricavare un qualcosa dal loro libro dal loro lavoro dalla loro opera insomma scrive un libro richiede come voi sapete un tempo sufficientemente lungo insomma un impegno una cosa così quindi se qualcuno di voi vorrà donare la cifra di due euro per questo per l'ascoltare insomma per poter usare questo audiolibro in cambio dei due euro che verserà liberamente potrà ricevere anche l'ebook del libro stesso sempre che poi la cosa sia di suo gradimento di piazza e quindi tra l'altro sarà anche libero insomma sarà anche libero di ascoltarsi tutto il libro l'audiolibro e poi di decidere insomma se l'ascolto gli sarà piaciuto magari potrà anche compensarlo con due euro se l'ascolto non gli sarà piaciuto niente se lo compenserà con due euro avrà in omaggio anche l'ebook e quindi se lo potrà anche leggere e non solo ascoltare detto questo magari mi risalgo di dirvi altre cose in un prossimo video e vi auguro un buon pomeriggio e una buona domenica arrivederci grazie a tutti